gentili telespettatori buona giornata ma vi ricordate la famosa dino r la camicia con i baffi qui costanzo faceva era testimonial nel suo maurizio costanzo show dino r la camicia coi baffi che fine ha fatto l'azienda dello spot di costanzo beh dino r collo fit proprio una camicia coi baffi difficile impossibile dimenticarsi questo celebre spot del di questo marchio padovano di camicia con protagonista maurizio costanzo che spopolò a lungo in tv divenendo un must per uomini di ogni età la direttiva nel giorno celebre è quella che porta a frarica a este padova con un'azienda che contava pensate addirittura 300 dipendenti e un'area di 28 mila metri quadrati guardate che un'azienda da 300 dipendenti 300 dipendenti è un'azienda grossa io ho lavorato in diverse aziende e vi posso dire che 300 e 28 mila metri quadrati ma quell'area di 28 mila metri quadrati è abbandonata da 13 anni ma che è pronta a rivivere cosa vuol dire la fa la celebre fabbrica venne chiusa nel 2007 abbassò la saracinesca e oggi è stata addirittura anche demolita cancellata ma tornerà presto sotto altre spoglie e in progetto infatti un nuovo quartiere residenziale che la famiglia righi titolare del celebre marchio ha concordato con il comune di este il sindaco matteo paiola dice che dovremmo sempre sindaco del comune di este dovremmo sempre ringraziare la famiglia righi ha avuto negli anni un legame fortissimo con il territorio dando lavoro a centinaia di famiglie penso che tutti noi chi più chi meno abbia in mente quella pubblicità con maurizio costanzo che rimbalzò continuamente sulle reti televisive italiane io ero giovanissimo al tempo ma la camicia coi baffi me la ricordo molto bene anche a distanza di anni oggi l'area su cui sorgeva la fabbrica è pronta per essere trasformata in un quartiere residenziale nei prossimi 12 18 mesi l'interlocutore resta sempre la famiglia righi con i suoi eredi ma non si può escludere che nonostante sia ancora la proprietà di un'area storica per il comune di este decida di vendere a un altro soggetto sorgeranno villette quadri familiari e tri familiari che risponderanno alla domanda di abitazioni residenziali che qui da noi è sempre molto elevata frarica fu fondata nel 1946 da franco edino righi e fu tra le camicerie più importanti d'italia negli anni 80 il volto di costanzo fu determinante per accrescere il successo aziendale attraverso una serie di spot ma i primi problemi cominciano ai primi anni del 2000 con la concorrenza asiatica che obbligò frarica prima a delocalizzare in romania e poi a chiudere definitivamente l'attività nel 2007 la carta vincente di dino r collo fit fu la possibilità di avere un collo sempre in condizioni perfette senza il bisogno di doverlo stirare e fu un successo in tutto il paese per la qualità e la vestibilità lo spot di costanzo che arrivava dritto al telespettatore portava con sé l'immagine di una camicia indossabile e accessibile a tutti quel legame di frarica con este chiude paiola rimarrà per sempre patrimonio della città la famiglia righi ci ha sicuramente dato tanto in questo giorno triste sicuramente in molti hanno pensato anche la nostra città richiamando un'epoca storica di grande fermento industriale e imprenditoriale che diede lavoro a tante famiglie contribuendo al benessere beh chi non si ricorda dino r la la camicia coi baffi insomma e è brutto vedere che certe certe diciamo aziende storiche italiane chiudono e non si riesca poi a tutelare per la famosa concorrenza globalizzazione e beh la globalizzazione ha portato a questo porta proprio alla scomparsa questa azienda ha provato a delocalizzare delocalizzare cosa vuol dire andare a produrre magari lasciare gli uffici direttivi in italia e andare a produrre in paesi dove il costo della mano d'opera è più basso in modo che puoi risparmiare e abbassare il prezzo della camicia perché risparmi sulla mano d'opera risparmi sulla luce risparmi su tutto in alcuni paesi quindi la delocalizzazione porta un vantaggio al paese per esempio la romania dove arriva un'azienda e porta a lavoro però porta in italia di disoccupazione perché tutto si sposta là quindi si perdono 300 posti di lavoro in italia e se ne acquistano 300 in romania questa è la delocalizzazione che fa parte della globalizzazione un mondo globalizzato dove vince quello che ha i prezzi più bassi ma spesso produce in posti dove si sfrutta il lavoro delle persone non ci sono diritti eccetera eccetera quindi la globalizzazione qualcuno dice che è finita la globalizzazione in questi ultimi anni però insomma la globalizzazione porta danni ad alcuni paesi e porta prosperità ad altri però la battaglia si svolge proprio sul lavoro nero sul lavoro che diventa sfruttamento appunto delle persone che lavorano senza diritti senza nulla spiace comunque questa azienda dopo essersi spostata poi sia abbia dovuto chiudere ci sono tante storie come vi ricordate aiazzone ci sono storie di aziende gloriose degli anni 80 quando c'era il boom economico in italia che poi non sono riuscite a reggere al peso della concorrenza mondiale perché dopo gli anni 80 90 arriva la globalizzazione si compete con tutti e molte aziende non ce l'hanno poi più fatta e adesso la camicia coi baffi si trasforma in case e villette quadri familiari grazie a tutti per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti arrivederci e grazie ciao ciao Grazie.